La Pesa è un indicatore dell'emergenza climatica perché prima di altri corsi d'acqua sta dimostrando la crisi profonda che stanno seguendo le nostre risorse naturali. Il torrente Pesa in genere si secca verso giugno, lo scorso anno anche prima, e ritrova l'acqua a novembre. Negli ultimi quattro anni è passata da una media di 4 metri cubi al secondo a 1,4 al secondo. Si servono lungo il suo corso inoltre tre gestori, essendo la Pesa luogo di confine fra nove comuni. Acqua e S.P.A. in Bastavalle per Montelupo e Montespertoli, Publiacqua per la Mediavalle, Acquedotto del Fiora per i due comuni in Altavalle della provincia di Siena. Insieme drenano dalla Pesa 6 milioni di metri cubi di acqua. L'atteggiamento in cui ognuno pensa per sé non è più sostenibile e potrebbe essere superato, almeno questo è il segnale, con il contratto di fiume firmato per ora da 57 comuni da Radda Inchianti a Montelupo, il cui principale messaggio è che un corso d'acqua non può essere gestito a pezzi. Se chi sta a monte prende tutta l'acqua o la sporca, a Vale non arriva niente. Sono stati poi posizionati tre piezometri che misureranno quant'acqua contiene la falda sotterranea. entreranno in funzione tra una decina di giorni, ma per avere un quadro realistico della situazione servirà almeno un anno di misurazioni. Intanto la pesa si asciuga e presto si ripeterà la cerimonia del trasloco dei pesci per salvarli da sicura sfissia. Qualcosa è già stato fatto, interventi apparentemente semplici di morfologia fluviale, come questa sorta di diga che crea una nursery per i pesci. Ne sa qualcosa Floriano, attivissimo pensionato che si è preso a cuore il fiume ed estate lo racconta ai bambini. Questa oasi si chiama Pull and Riffle, letteralmente un'increspatura nella pozza. Che qui rimane sempre pochino d'acqua, quel bianco lì è tutto ossigeno che la cascatella produce. Rimessi questa acqua ossigenata si riprendono subito. Abbiamo pochi morti da fuoco amico. Ma la pesa è un esperimento anche per altre opere non sempre evidenti ad occhio inesperto. Ad esempio il ripristino dei corridoi fluviali, cioè la vegetazione sulle sponde o le aree di laminazione realizzate dal Consorzio di Bonifica Mediovaldarno. Non casse di espansione, più ampie per i casi di emergenza, ma una porzione di territorio dedicato allo sfogo del fiume in caso di piena. Questi terreni sono privati, ma i proprietari hanno già ricevuto un indennizzo preventivo per eventuale danno da alluvione. Sono interventi finanziati dall'Unione Europea attraverso il Ministero dell'Ambiente. Dopo la modifica lo scorso anno dell'articolo 9 della Costituzione e l'inserimento nella Suprema Carta della salvaguardia dell'ambiente, della diversità e degli ecosistemi, anche le norme statali e regionali si devono adeguare in senso antropocentrico. Tradotto, gli anni in cui l'uomo prende dalla natura in base alle sue comodità sono finiti. È l'ora di restituire a Cesare quello che di Cesare, o della Pesa, è sempre stato. Non lo dobbiamo fare per il pesce, per la farfalla, per la pianta, ma noi siamo parte integrante di questi ecosistemi. Quindi se noi conserviamo gli ecosistemi, conserviamo il luogo adatto per la nostra vita.